Ma le attrattive di quest'isola unica non sono certo finite. Al suo interno Ischia offre una serie di gradevoli paesini collinari dove effettuare piacevoli e fresche passeggiate, anche a ferd'agosto. Ecco allora Barano, da dove si potrà scendere sulla più grande spiaggia dell'isola, quella dei Maronti. E poi ancora alla scoperta di angoli di storia, come queste case di pietra, testimonianza di insediamenti umani addirittura preistorici. E poi ancora Serrara Fontana, con le sue campagne, i suoi vigneti, da cui si ricavano vino eccellente e innumerevoli prodotti tipici. Per proseguire con i tanti ristoranti tipici, che offrono tutte le squisite specialità napoletane, dalla classica pizza al piatto nazionale dell'isola, il Coniglio. Grazie a tutti.